Che ne pensa di un'eventuale candidatura a sindaco di Napoli di Mara Garfagna? Non ne penso un gran bene, anche perché Mara Garfagna comunque non è una cittadina napoletana. Io vedo più, posso dire anche il nome, Mastella, almeno sono i nomi che in questo momento mi vengono in mente. La Garfagna no, non la vedo proprio, perché non è una cittadina napoletana, c'è bisogno di persone che vivono Napoli, che siano noeste, indubbiamente. Che ne pensa di una possibile candidatura a sindaco di Napoli di Mara Garfagna? Penso che non va bene, sono un'altra persona, più che capisce la politica e che fa le cose buone. Che ne pensi di una possibile candidatura a sindaco di Napoli di Mara Garfagna? Credo sia interessante come novità politica in quanto è un esponente giovane e quindi può in qualche modo veicolare un ricambio della politica, specie in un partito dove in qualche modo c'è una classe dirigente che forse alla luce delle ultime notizie non è tanto favorevole. Però credo che da parte di tutti e due gli schieramenti, di tutte e due le coalizioni, proporre nuove persone, nuove personalità, giovani soprattutto, può essere veramente un buon esempio di rilancio della politica in Campania che è abbastanza turbata da vecchie logiche di assistenzialismo, di clientelismo. Quindi potrebbe essere una cosa positiva. Che ne pensa di una possibile candidatura a sindaco di Napoli di Mara Garfagna? De l'orevole Mara Garfagna io l'ho sentito ultimamente alle elezioni che si svolzero a Mugnano. Come persona io l'ho vista abbastanza preparata, una buona politicante, anche perché proviene da un partito abbastanza forte. E non è che sia, diciamo, male come la sua candidatura o la sua possibile inserimento fra i sindaci del comune di Mugnano. Che ne pensa di una possibile candidatura a sindaco di Napoli di Mara Garfagna? Negativa. Poca esperienza politica. Indubbiamente una bella donna di pochissime esperienze politiche. Sta cercando di fare bene, però è ancora all'inizio. 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 Grazie a tutti